A Milano! Ecco! Sì! Ok! Benvenuti! Ecco! Sì! E beh! Bisogna supportare la velocità! Chiudi! No! Tiro una dopo! Sì! Chiudi! Casino, seleziona, per lì, signora, fiatta, vengono a fiatta, vengono a start. Vengono a fiatta, vengono a fiatta, vengono, vengono, vengono a fiatta. iscriviamo la velocità Il ministero, il pachino ha capito che è di farlo, cosa fanno? Ma che inizia alle pachine, ascoltano sempre. Guarda, 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 guarda. Questa è mi costruzze non piegare, la scena cheedelicaa fare avanti, ormai che, non c'entano solo dove strano. Grazie. Spatiamo le cariche. Andiamo un po' questa macchina. Andiamo. 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 Ci whileghi. Andiamo. E poi, qui siamo vedre? Capito C mercolino, Sera poi. Ci sono Давì hai? E poiおっ come badà, away non chiamate rimettere tutte le forcedi. va 덮endo altro incника. Che c'è odianti come ti? Corso. Darı costando turismo. Ka', vogl-e, e blocchiamo questa registrazione e blocchiamo questa registrazione